Una casa popolare è occupata, allacciata abusivamente alla corrente di alimentazione dell'ascensore del palazzo e con addirittura la cantina utilizzata per consumare droga. L'appartamento in via di Torbella Monaca è stato riacquisito da Roma Capitale e ora verrà assegnato a chi ne ha diritto. In queste ultime settimane più di 40 case popolari sono state assegnate alle persone legittimamente in graduatoria. Dopo diversi anni di assenza è finalmente stato nominato il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, uno strumento imprescindibile per l'elaborazione di criteri e linee guida degli interventi edilizi sul territorio di Roma Capitale. L'obiettivo è garantire la qualità dello spazio urbano complessivo. Uno speciale su Roma sul mensile di viaggi e lifestyle dove nel numero di febbraio 16 pagine a colori sono state dedicate alle bellezze della città eterna, alla sua offerta turistica, ai luoghi da visitare e da vivere, ai locali alla moda, tra tradizioni e nuove tendenze. Con un racconto inedito di Roma e delle sue soluzioni di soggiorno.